Giovanni Basso, questa situazione di Piazza Failla parla da sola, ma vi siete già lamentati con qualcuno? Avete parlato già in comune con qualche assessore? Ho parlato l'assessore Silvano Costantino e mi ha detto che oggi pomeriggio passa con un geometro a visionare il tutto per sapere come fare per portare via l'immondizio. Siamo in questo stato da sabato praticamente? No, da domenica, domenica mattina quando è andata via l'acqua, che è andata via sabato sera, da domenica mattina. E comunque nessuno ancora si è visto qua per provare a portare via, si sta solo accatastando e accumulando tutto? Il cover ci ha detto di metterla in strada, ma se noi mettiamo in strada chiudiamo tutta la viabilità.